I carabinieri del Ross sono impegnati nell'arresto di 18 persone in tutta Italia per associazione mafiosa. L'indagine è partita dal tentato sequestro di un ristoratore a Rolo. Il nome del presunto boss della Camorra, Francesco Vallefuoco, già conosciuto alla cronaca per relazioni pericolose in affari tra il suo panificio e la Cirfood. Ancora un caso di sospetta tubercolosi in una scuola media di Cade del Bosco sopra, la studentessa ha già iniziato la profilassi per la cura. Da domenica a Reggiolo non ci sarà più la zona rossa, un altro passo avanti nel post-sisma. 23 persone saranno ospitate nelle cinquecentesche casette lemosinarie di via Fontanelli a Reggio, posti letto destinati ai più disagiati. 200 milioni di euro di ricavi complessivi per cantine riunite e CIV. Il consorzio ha chiuso il bilancio 2012 registrando un successo anche nell'export. Domani nella Basilica di San Prospero a Reggio un festoso concerto benefico del coro dell'Antoniano di Bologna. Venerdì 14 dicembre, buona serata a tutti e bentornati a questa nuova edizione di ETG Reggio su Teletricolore. Cominciamo con la cronaca, la bassa reggiana sotto sciocchi. Il territorio è pervaso da clan di Camorristi. Nel 2009 un commando aveva tentato il sequestro di un ristoratore di Rolo, ma se ne viene a conoscenza soltanto adesso. Sul tentato rapimento ha lavorato la direzione distrettuale antimafia di Bologna e dopo tre anni di indagini oggi sono scattati i mandati di cattura per 18 presunti associati. Sentiamone qualcosa di più da Isabella Trovato. L'indagine della direzione distrettuale antimafia di Bologna è durata tre anni e a svolgerla sono stati i rossi carabinieri del raggruppamento operativo speciale dell'arma e oggi si è conclusa con 18 misure cautelari per soggetti accusati di associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e tentato, sequestro e un nome che spicca tra tutti quello di Francesco Vallefuoco, considerato il boss della camorra nella bassa reggiana. Tutto inizia nel 2009 quando sui tavoli della DDA di Bologna finisce il tentato sequestro di un ristoratore di Rolo ad opera di un commando di napoletani, tre pregiudicati. Un tentato rapimento che non riesce perché la banda viene messa in fuga dal fratello della vittima e dai dipendenti del locale. Mille giorni di indagini e l'antimafia arriva al presunto mandante Francesco Vallefuoco che fino ad un mese fa viveva a Novellara ed era conosciuto anche a Cadelbosco Sopra dove risiedeva la compagna Lucia Esposito, anche lei in manette, insieme alla moglie di Vallefuoco, Giustina Panico. I tre anni di lavoro sono serviti agli inquirenti per ricostruire un quadro che non lascia spazio alle interpretazioni. Il clan facente capo a Vallefuoco operava estorsioni ai danni di imprenditori dell'Emilia Romagna e grazie alla complicità di una rete di professionisti, commercialisti e notai riscuoteva ingenti somme con fittizi e società di recupero crediti e dove non arrivava il potere della convinzione arrivava la violenza al punto che molte vittime hanno valutato il suicidio ed una di queste si è spinta fino a quel punto. Ma chi è Francesco Vallefuoco? Di lui si dice che si è passato dal pane alla finanza, non solo per i risultati dell'operazione Vulcano che ha smascherato le società di recupero credito e gli investimenti immobiliari e non del clan, ma soprattutto perché il panificio di San Marino della famiglia Vallefuoco riforniva due colossi della ristorazione, la Camst Bolognese e la Cheer Food di Reggio. Vediamo. Fino a poco tempo fa Francesco Vallefuoco viveva a Novellara, la sua compagna Lucia Esposito a Cadel Bosco Sopra dove tuttora risiede la famiglia della donna. Quali interessi, a parte quello sentimentale, lo legassero alla bassa reggiana non è dato saperlo, ma quello che è certo è che appena un anno fa il cognome di questa famiglia si è trascinato dietro due colossi della ristorazione dell'Emilia Romagna, la Camst di Bologna e la Cheer Food di Reggio. Perché Vallefuoco non sarebbe soltanto, stando a quanto risulta dalle indagini della DDA, un imprenditore del crimine organizzato, è anche un uomo d'affari, di quelli che contano, affari che viaggiano dalla Repubblica di San Marino fino a Reggio, su canali puliti o presunti tali, o sarebbe meglio dire ripuliti. Nel piccolo stato di San Marino, infatti, la famiglia Vallefuoco ha un panificio. Ebbene, questo forno ha rifornito la Camst e la cooperativa reggiana fino all'inchiesta del 2011, quando sono emerse le relazioni pericolose. I titoli dei giornali parlavano di pane mafioso finito nelle mense delle scuole dei bambini reggiani. La Cir si era giustificata spiegando che la fornitura proveniente dal panificio non era mai stata distribuita a Reggio, ma c'è una domanda che puntualmente non trova risposte. Come riesce un clan ad arrivare alle alte sfere della cooperazione? E giallo sull'arsenale trovato in casa di un camionista palermitano di 59 anni, Nicola Badalamenti, che nella sua abitazione di Casa al Grande deteneva tre pistole e 300 proiettili di vario tipo. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Neviano degli Arduini. Durante un controllo stradale nel parmese i militari hanno trovato un proiettile nel cruscotto del camion. Ne è seguita una perquisizione nella sua villetta di Casa al Grande, dove l'uomo vive con una compagna. La prima pistola è spuntata dal cassetto delle posate in cucina, poi il ritrovamento delle altre armi e l'enorme quantità di proiettili di vario tipo ora al vaglio dei risti Parma. A Badalamenti era stato negato il porto d'armi negli anni passati e con i militari si sarebbe giustificato dicendo di essere stato vittima di ripetuti furti nei suoi viaggi in Italia e all'estero. Cambiamo argomento, nuovo caso di sospetta tubercolosi polmonare in una studentessa della Scuola Media dell'Istituto Comprensivo di Cadelbosco Sopra. Lo ha reso noto la direzione dell'USL precisando che le condizioni dell'alunna sono stabili. La ragazza ha iniziato la terapia specifica e continuerà ad essere controllata per i prossimi mesi. La pediatria di comunità e il servizio di igiene pubblica hanno avviato le procedure previste per individuare i contatti a rischio in ambito scolastico e familiare. Domani si terrà l'incontro dell'azienda USL con il personale scolastico e i genitori dei ragazzi che frequentano la scuola per illustrare le procedure sanitarie che verranno seguite in applicazione delle linee guida per il controllo della malattia tubercolare emanate dal Ministero della Salute. Badante ma anche ladra. Una cinquantenne moldava è stata denunciata per furto aggravato dalla famiglia presso la quale aveva lavorato a Reggio fino ad agosto. La padrona di casa finito l'ingaggio della Badante si era accorta che dai cassetti erano spariti diversi oggetti e capi d'abbigliamento. Poi il ritrovamento nella cantina in sacchetti riposti si presume dalla stessa moldava all'interno dei quali oltre alla rifurtiva c'erano anche vestiti donati dalla famiglia alla cinquantenne. La Badante è stata rintracciata nell'abitazione di un'altra famiglia reggiana presso la quale aveva già trovato in piego. Ancora cronaca un 37enne tarantino residente in Svizzera è stato denunciato dalla polizia per rapina in concorso con un'altra persona. Ad ottobre l'uomo di passaggio da Reggio aveva rifornito la vettura e poi era scappato senza pagare trascinandosi dietro il gestore del distributore che lo aveva rincorso per farsi dare i soldi. I militari sono risaliti al proprietario del mezzo cioè il padre del 37enne che nel frattempo ha scoperto l'accaduto ha risarcito il benzinaio ma non ha comunque potuto evitare la denuncia del figlio. Ed ora voltiamo pagina sono giorni importanti per Reggiolo da domenica infatti viene cancellata la zona rossa in centro storico la messa in sicurezza degli edifici e una galleria di protezione permetteranno di ricollegare la piazza con via Matteotti dopo il terremoto di fine maggio. A fabbrico torna almeno in parte il mercato in corso Roma dopo un esilio fuori dal cuore del centro storico che era durato da fine maggio e a Reggiolo dal fine settimana cade anche l'ultima barriera che teneva divisa Piazza Martiri dalla centralissima via Matteotti cancellando così la zona rossa del paese creatasi dopo le scosse telluriche del 20 maggio ma soprattutto quelle di nove giorni dopo. Resta ancora molto da fare perché alcuni edifici sono inagibili e con necessità di interventi poderosi per poter tornare abitabili ma l'apertura del passaggio tra la piazza e la strada dei negozi di Reggiolo rappresenta sicuramente un passo avanti dopo che tutti gli edifici sono stati messi in sicurezza almeno per quanto riguarda la stabilità esterna. Per l'inagibilità perdurante di Palazzo Sartoretti il passaggio tra la piazza e via Matteotti sarà protetto da una galleria di tubi metallici realizzata grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco e dei volontari della locale protezione civile. Dunque passaggio previsto al momento solo per pedoni e ciclisti mentre le auto sono tornate a transitare su altre strade del centro abitato pur se in alcuni casi a senso unico. Intanto per ridare al paese il sapore della festa natalizia dopo l'emergenza terremoto anche questo fine settimana sono previsti momenti ricreativi a Reggiolo. Domenica in piazzale Artiori previste dimostrazioni di danza, bancarelle, babbo natale con dolci per i bambini, attrazioni natalizie lungo le vie del centro storico, bancarelle e il mercato terra dei Gonzaga oltre al pane cotto nei forni a legna e da Natale torna la rassegna dei presepi non più nella rocca disastrata ma in uno spazio in piazza Martiri. Presentato alla città il restauro delle cinquecentesche casette lemosinarie di via Fontanelli. Gli appartamenti destinati a nuclei familiari in stato di disagio socio-economico possono ospitare 23 persone. Investiti da Comune, Regione Emilia Romagna e Fondazione Manodori 1.600.000 euro. Abbiamo restituito alla città un piccolo gioiello alla quale i reggiani sono molto affezionati rispettando la sua vocazione originaria. Le casette di via Fontanelli tornano ad essere abitate offrendo un'opportunità e un progetto di vita a persone in difficoltà. Con queste parole il sindaco del Rio ha aperto le porte degli immobili cinquecenteschi in via Fontanelli conosciute come casette lemosinarie dei quali si sono da poco conclusi i lavori di restauro. Dal mese di agosto due delle tre unità immobiliari sono state consegnate ai servizi competenti iniziando ad ospitare i primi nuclei familiari. Gli appartamenti sono concessi in uso temporaneo dal servizio sociale comunale a donne in regime di convivenza con modalità e condizioni di utilizzo che fanno riferimento alle disposizioni in materia di alloggi di assistenza abitativa. È prevista una tariffa definita a posto letto. Giornata reggiana, quella di oggi per il nuovo comandante della legione Carabinieri Emilia Romagna, generale di brigata Antonio Papparella. Il generale accompagnato dal comandante provinciale colonnello Paolo Zito ha reso visita alle massime autorità provinciali incontrando nell'ordine del prefetto di Reggio, dottoressa Antonella De Miro, il sindaco Graziano Del Rio, il presidente del tribunale, dottor Francesco Maria Arcangelo Caruso e il procuratore capo della Repubblica, dottor Giorgio Grandinetti. Il generale Papparella ha quindi voluto salutare sia il personale in servizio che quello in congedo riunitosi all'interno del comando dei carabinieri di Corso Cairoli. Il comandante regionale ha invitato a perseverare nel tenere alta la guardia. Il carabiniere, ha detto, è sempre più vicino alla gente. E noi ora ci fermiamo perché c'è la pubblicità, ma ci vediamo subito dopo. Siamo pronti a ripartire con il nostro telegiornale. Rivediamo rapidamente, prima di vedere insieme le altre notizie, il riepilogo di oggi. I carabinieri del Ross sono impegnati nell'arresto di 18 persone in tutta Italia per associazione mafiosa. L'indagine è partita dal tentato sequestro di un ristoratore a Rolo. Il nome del presunto boss della Camorra, Francesco Vallefuoco, già conosciuto alla cronaca per relazioni pericolose in affari tra il suo panificio e la Cirfood. Ancora un caso di sospetta tubercolosi in una scuola media di Cade del Bosco sopra. La studentessa ha già iniziato la profilassi per la cura. Da domenica a Reggiolo non ci sarà più la zona rossa. Un altro passo avanti nel post sisma. 23 persone saranno ospitate nelle cinquecentesche casette lemosinarie di via Fontanelli a Reggio, posti letto destinati ai più disagiati. 200 milioni di euro di ricavi complessivi per cantine riunite e CIV. Il consorzio ha chiuso il bilancio 2012 registrando un successo anche nell'export. Domani nella Basilica di San Prospero a Reggio un festoso concerto benefico del coro dell'Antoniano di Bologna. Lo avete appena sentito dai titoli, 200 milioni di euro di ricavi complessivi per cantine riunite e CIV. Il consorzio ha chiuso il bilancio 2012 registrando un successo anche nell'export. Irene Spediacci. Chiude l'esercizio con ricavi complessivi per 200 milioni di euro, cantine riunite e CIV, riunitasi in assemblea generale nella cantina di Albinea Canali per l'approvazione del bilancio 2012. La cooperativa che raggruppa oggi più di 2.000 soci produttori di uve e 15 cantine associate in Emilia Romagna e Veneto può peraltro brindare a una crescita dell'11% rispetto all'anno scorso, dato che le permette di tenere ben salde le redini della leadership nel segmento dell'Ambrusco e del Pignoletto, oltre che in quello del Prosecco e dei vini frizzanti veneti prodotti nelle proprie cantine maschio di Treviso. Questo è un bilancio che ci dà soddisfazione, prima di tutto perché avendo la nostra base sociale che insiste su tre province, Reggio, Modena e Bologna, sono dei produttori e quindi la prima cosa che guardiamo è quella del riparto sociale, per cui quest'anno il conferimento verrà remunerato con 44 euro al quintale medio, circa un 10% in più rispetto allo scorso anno ed è un risultato che ci dà soddisfazione. Occorre poi mettere l'accento sull'export che con il 43% del totale delle vendite in più di 80 paesi nel mondo ha registrato una crescita del 12% del fatturato rispetto al 2011. Quali sono le prospettive per il futuro? Noi abbiamo sempre fiducia di che il nostro futuro sia positivo e sia in crescita, sicuramente il momento non è semplice, noi siamo fiduciosi comunque di mantenere le nostre posizioni soprattutto di poter beneficiare di importanti diffusioni che abbiamo avuto all'estero, anche in paesi dove prima non si consumavano i nostri vini, speriamo che questo ci permetta con la prossima annata di mantenere i volumi. La cronaca agli agenti della Polizia Municipale di Reggio impegnati nei controlli al Parco Cervi hanno arrestato un 48enne italiano sorpreso mentre cedeva un panetto di hashish ad un altro reggiano di 34 anni. I due erano seduti su una panchina del giardino pubblico a fumare uno spinello. Il 34enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, l'altro è stato arrestato e ha già dei precedenti. Furto in un'azienda di Casalgrande specializzata nella produzione di stufe, nella notte i ladri sono entrati negli uffici infrangendo il vetro della porta d'ingresso e facendo man bassa di contanti. Sono poi fuggiti con oltre 1000 euro. I danni per l'azienda però ammontano diverse migliaia di euro, indagano i carabinieri. Ed ora voltiamo pagina. Gradito ritorno a Reggio per il piccolo coro dell'Antoniano di Bologna. Domani nella Basilica di San Prospero, festoso concerto benefico a favore dell'ospedale della donna e del bambino. I bimbi del popolarissimo piccolo coro Maria Leventre dell'Antoniano di Bologna si esibiranno domani alle 16.30 nella Basilica di San Prospero a Reggio a favore del progetto rientro di realizzazione dell'ospedale della donna e del bambino per il quale si sta impegnando l'associazione Curare Onlus. La direzione del piccolo coro bolognese noto in tutto il mondo è affidata come sempre a Sabrina Simoni che ha assunto la guida della formazione corale dopo la scomparsa della compianta Maria Leventre alla quale si deve il grande successo di questa realtà artistica collegata strettamente allo zecchino d'oro, pure quello frutto dell'attività dei frati francescani dell'Antoniano di Bologna. L'associazione Curare di utilità sociale senza scopo di lucro nasce per sostenere in modo concreto la realizzazione della struttura ospedaliera dedicata a ospitare le discipline afferenti all'area materno infantile dell'Arcispedale Santa Maria Nuova. Curare promuove incontri ed eventi per far conoscere il progetto e creare il coinvolgimento della comunità nella condivisione di un obiettivo, contribuire alla realizzazione della struttura di fondamentale importanza per il futuro dell'assistenza provinciale in ambito neonatale, pediatrico, ostetrico e ginecologico. Il concerto di domani nella Basilica Cittadina servirà per dare un contributo attraverso offerte libere all'ospedale della donna e del bambino, una struttura di 5 piani destinata a ospitare pediatria, ginecologia, ostetricia, centro sterilità, neonatologia, comparto operatorio e neuropsichiatria infantile. E noi di nuovo diamo la linea alla pubblicità per ritornare tra pochissimo. Il meteo è offerto da Gruppo Ponzi Investigazioni Indagini e informazioni commerciali Indagini confidenziali, matrimoniali e su problematiche giovanili Gruppo Ponzi Investigazioni e sicurezza A Reggio Emilia in via Giorgione 2 www.ponsi.it Ed eccoci alle previsioni del tempo per domani, sabato 15 dicembre su Reggio e Provincia. Al mattino in pianura coperto con piogge deboli, sui rilievi coperto con piogge persistenti. Nel pomeriggio molto nuvoloso, dalla sera sereno poco nuvoloso. Le temperature domani oscilleranno tra i meno 1 e i 5 gradi. Tili Tricolore Meteo Il meteo è stato offerto da Gruppo Ponzi Investigazioni A Milano, Brescia, Verona, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna Gruppo Ponzi Investigazioni e sicurezza A Reggio Emilia in via Giorgione 2 www.ponsi.it Siamo arrivati agli appuntamenti alle 21 Alla Teatro Cavallerizza di Reggio Domani concerto di percussioni Alla chiesa di Cognento di Campagnola Si esibisce il corpo filarmonico Primavera Andiamo poi al Teatro di Fabrico Per un gran galà della lirica Alla fuori orario di Taneto suonano i club Dogo Alla Teatro Reggio di Via Agosti alle 21 Gar di Atter con lo spettacolo La Sarta E poi al Teatro Cavallerizza concerto di percussioni Al Teatro di Rio Saliceto alle 21 Alessandro Benvenuti presenta comici fatti di sangue Mentre al Valli di Reggio alle 20.30 Il nuovo show di Aldo Giovanni e Giacomo All'Officina delle Arti di Reggio uno spettacolo di danza Alla Piccolo Teatro San Francesco alle 21 Mi farà male grasso del prosciutto con Elis Bassi E una commedia dialettale in scena al Teatro San Prospero Sempre domani sera alle 21 E terminata questa lunga pagina di appuntamenti Siamo pronti a riepilogare le principali notizie del giorno I carabinieri del ROS sono impegnati nell'arresto di 18 persone In tutta Italia per associazione mafiosa L'indagine è partita dal tentato sequestro di un ristoratore a Rolo Il nome del presunto boss della Camorra Francesco Vallefuoco Già conosciuto alla cronaca per relazioni pericolose In affari tra il suo panificio e la Cirfood Ancora un caso di sospetta tubercolosi In una scuola media di Cade del Bosco Sopra La studentessa ha già iniziato la profilassi per la cura Da domenica a Reggiolo non ci sarà più la zona rossa Un altro passo avanti nel post-sisma 23 persone saranno ospitate nelle cinquecentesche casette Lemosinarie di via Fontanelli a Reggio Posti letto destinati ai più disagiati 200 milioni di euro di ricavi complessivi Per cantine riunite e CIV Il consorzio ha chiuso il bilancio 2012 Registrando un successo anche nell'export Domani nella Basilica di San Prospero a Reggio Un festoso concerto benefico del coro dell'Antoniano di Bologna Ed è tutto, termina qui ETG Reggio Grazie per averci seguito Vi auguriamo un buon proseguimento di serata Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.